Giorgio Simani è appena finita la finale, la terza finale è quella buona? Sì, per fortuna dopo due finali perce è arrivata questa vittoria meritatissima direi Playoff perfetti, squadra solida, nessuna sbavatura? No, siamo stati veramente perfetti dall'inizio alla fine, una squadra solidissima, abbiamo puntellato dove mancava con l'innesto di qualche giocatore e adesso veramente siamo forti, non dico imbattibili Questo schema poi sul fallo laterale di San Paolesi per Tombesi ha funzionato anche stasera Sì, ha funzionato anche stasera e ha sbloccato la partita Sì, è uno schema che funziona perché Emiliano tira forti di piede ma anche con le mani Non c'è la bomba Non tira in porta, arriva dove gli pare, quindi sì ha funzionato E adesso si festeggia? Adesso si festeggia e insomma c'era parecchia tensione Io, i ragazzi, però siamo stati bravi, abbiamo meritato anche con l'esperienza Un po' con tutto, insomma la vittoria è strameritata Sì, partita strameritata, loro hanno preso qualche traversa L'unico momento che si è deciso la partita, la traversa di loro e voi segnavate invece Però devo dire che ci abbiamo sempre in pugno, dall'inizio alla fine, non c'è stata la storia Sì, sì, avete bloccato tutto il loro... un muro, c'era un muro indietro Sì, dietro veramente, una muraglia davanti, pericolosi, bene a centrocampo, bravi tutti veramente Va bene, adesso andiamo alle premiazioni allora, complimenti Grazie Grazie Ciao